E' Stefano D'Alena, 52enne di Roma, l'uomo morto carbonizzato nell'incidente stradale avvenuto mercoledì sera alle 22 lungo l'autostrada del Sole poco prima del casello di Monte San Savino. L'identità dell'uomo è stata accertata tramite l'esame del DNA effettuato nel primo pomeriggio di giovedì su richiesta della polizia stradale di Arezzo. Secondo quanto si è appreso, il 52enne stava tornando da Torino dove aveva ritirato una Fiat 500 e si stava reccando a Roma per consegnare l'auto al rivenditore per conto del quale lavorava. All'altezza di Monte San Savino ha tamponato violentemente un camion che lo precedeva, l'auto ha così preso fuoco e il 52enne morto carbonizzato. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Stefano D'Alena lascia la moglie e i due figli.